ciao ragazzi ciao bentrovati bentrovati a tutti nuovi e meno nuovi diciamo bentornati a questo nuovo video come avete visto dal titolo molto probabilmente oggi andiamo a parlare di un'altra cosina diciamo tecnica tra virgolette di un altro accorgimento che io ho voluto adottare qua a bordo del mio camper del vecchio mulo ormai sono sono diversi anni che l'ho fatto e devo dire che da quando ho trovato questa soluzione diciamo che ecco il comfort a bordo è cambiato notevolmente perché anche adesso che siamo a cambio di stagione e poi quando arriverà meglio l'estate che il caldo insomma comincerà a farsi sentire di più appunto questo accorgimento mi sarà sempre più utile e comunque diciamo che anche adesso che siamo appena usciti dall'inverno comunque è una cosa che ha valore per entrambe le stagioni ecco sia per per il caldo che per il freddo e infatti vi dicevo come avrete visto sto parlando qua alle mie spalle della della paratia che ho deciso di andare a creare che ho deciso di andare a installare tutta logicamente fai da te con materiali semplici però con un ottimo risultato ecco non non è una cosa della quale mi sono mai pentito anche perché prima qua c'era la classica tenda che per quanto potesse essere di un buon materiale perché fondamentalmente sono tende quelle che ti forniscono già sui camper quelle che separano la cellula abitativa dalla parte guida dalla cabina di guida sono sicuramente già delle tende di un buono spessore che qualcosa riescono già a fare ecco per isolare un attimino le ambienti diciamo però logicamente non possono fare quello che poi una struttura fissa va a fare proprio perché ecco con questa cosa che ho adottato come vedete questa è la paratia sotto la manzarda aprendo questa porta scorrevole che poi vi farò vedere si va direttamente alla cabina di guida e diciamo che quando il sistema è stato chiuso in questo modo prima di tutto da una sensazione proprio di privacy quindi diventa proprio una casettina dietro che però è la cosa minore di tutto perché il suo effetto più grande eccolo da proprio quando poi vai a capire che la cellula abitativa rimane ben isolata dal caldo e dal freddo rispetto poi alla cabina di guida che ovviamente essendo tutta vetrata è molto più soggetta a sbalzi termici non indifferenti quindi adesso vi vado a far vedere piano piano come abbiamo fatto il tutto e vi accorgerete che è un lavoro molto semplice logicamente se c'è già una disposizione del genere su un camper si può fare comunque io penso che grosso modo con piccoli cambiamenti ma si possa fare quasi su tutti i modelli di camper quindi potrebbe essere interessante anche se qualcuno non l'ha ancora fatto ci stava pensando magari può prendere spunto da quello che ho fatto io anche perché effettivamente mi è stato richiesto spesso e volentieri sotto tanti messaggi sia qua di youtube che anche su instagram quindi oggi ho pensato di andare a accontentare anche con questo tipo di richieste e di farvi vedere un po' come ho fatto eccoci qua questa diciamo che è la parte fissa che rimane dietro lo schienale della seduta è un pannello unico di compensato che è circa uno spessore di 2-3 cm adesso non ricordo bene comunque sono andato a coprire tutta la parte dietro lo schienale come vedete con quella parte fissa e questa di qua invece è la porta scorrevole che aprendola mi fa andare proprio nella cabina di guida infatti adesso vi faccio vedere qua ci ho messo un pomellino come potete vedere proprio come se fosse una porta normale e noi semplicemente facendola scorrere su dei binari che poi sono andato io a costruire sia nella parte superiore che inferiore poi adesso ve li farò vedere più da vicino anche perché l'immagine è venuta particolarmente buia ma d'altronde c'è un forte contrasto di luce e questa è la porticina e adesso vi faccio anche vedere che io nonostante non sia proprio un fruscellino riesco tranquillamente a passare da avanti a dietro ed ecco qua come vedete ci passo senza problemi e sono già pronto per partire ecco come avete visto probabilmente ecco prima quando c'era la tenda come dicevo magari si passava un po' meglio non lo metto in dubbio però comunque si può passare lo stesso e invece quando poi è tutto chiuso è un'altra cosa ecco in questo momento come vedete è aperto quindi rimane così volevo farvi vedere velocemente che in basso c'è una guida per farla camminare e la solita cosa è stata fatta qua in alto questa è proprio la guida nella quale scorre questo invece un pannellino che deve essere circa di un mezzo centimetro dove poi sono andato a mettere questo pomellino sia da questa parte che dall'altra eccolo qua in questo modo noi lo andiamo a chiudere e poi qua adesso che non è tanto ho installato anche una chiusura così di modo che dalla parte del guidatore se io anche scendo che comunque non si può aprire perché praticamente non fa più l'effetto scorrevole e si blocca diciamo che per aprire siamo obbligati a sfondare non che sia impossibile però quantomeno se qualcuno provasse ad aprirlo dalla parte della cabina guida ma ecco non non è possibile se volessimo mettere anche noi in pratica una cosa del genere praticamente che cosa dobbiamo fare andiamo a togliere la tenda che sarà già esistente sicuramente nei nostri camper vintage e poi dobbiamo andare a mettere a terra come vi ho fatto vedere una guida fatta a U un binario diciamo e anche nella parte superiore la solita cosa logicamente devono essere un pochino più larghi del pannellino che poi ci andrà a scorrere dentro perlomeno un paio di millimetri più larghi di modo che ecco non forzi quando poi noi andremo sempre ad aprire e chiudere la porta quindi io consiglio di rimanere un paio di millimetri più larghi sia con la guida inferiore che con quella superiore tanto poi la porta quando sarà al suo posto non farà più nessun movimento a meno che certo non ci mettiamo veramente troppo larghi però ve l'ho detto un paio di millimetri più larghi del legno che andremo a utilizzare e praticamente dopo prendiamo le nostre misure facciamo un pochino più grande di quello che poi dovrà andare a coprire l'altezza precisa di qua un altro bel pannello e poi noi mettendoli in un modo che si muovono in questo senso qua come adesso ho fatto io ci ritroveremo con una porticina che si può chiudere scorrevole la ritengo che sia più geniale tra virgolette di una porta che si possa aprire così semplicemente perché ti rimane sempre un ingombro non indifferente e non so se potrebbe essere tanto comoda io penso che sia molto più molto più efficace ricavata così scorrevole credo di aver spiegato più o meno tutto quello che c'è e nella sua semplicità del lavoro ecco vi faccio vedere un attimino poi come viene veramente una cosa separata una cosa molto carina molto intima anche volendo e sembra proprio una casetta a parte ecco la cabina guida a questo punto non c'entra proprio più niente quindi niente spero di risposto in maniera abbastanza esaustiva alle domande che mi sono state fatte vi ho fatto vedere anche velocemente quello che poi ho dovuto fare il lavoro è veramente semplice alla portata di tutti con un attimino di fai da te si si fa senza grossi problemi e la spesa irrisoria perché sono veramente due pannelli di legno poi dopo io ora qua come vedete ci ho messo poi un chiavacino ma quello si può mettere come non mettere e il pomello voglio dire non costano niente si trovano tutti i posti dei pomellini semplici così di plastica o se a uno piace può mettere anche diversi in ottone insomma comunque la spesa irrisoria volendo risultato invece vi posso garantire che veramente è eccezionale perché sia quando è inverno che è molto freddo la cabina guida diventa veramente fredda specialmente quando siamo insomma arrivati a destinazione quindi non è più in funzione il nostro riscaldamento e in pochi minuti ci viene veramente freddo e l'estate alla rovescia che con tutti i vetri il sole entra che è un piacere quindi riscalda la cabina guida in una maniera esagerata diciamo che questa situazione di legno riesce a isolare in maniera molto molto discreta ecco non non fa venire di qua troppo quello che poi è di là nella cabina guida e quindi nella cellula abitativa rimane sia più fresca all'estate che più calda l'inverno si spreca anche molto meno gas per far andare la nostra stufa e quindi ce ne andiamo a trovare anche poi nel risparmio delle spese che andremo a effettuare durante l'anno diciamo il mio consiglio è di farlo assolutamente a chi chi può farlo lo faccia perché è una cosa veramente intelligente secondo me da fare è una soluzione anche molto carina come avete visto se avete più o meno questa disposizione o comunque lo spazio abbastanza grande si riesce a passare benissimo lo stesso tra un ambiente e l'altro perché io ce la faccio senza problemi e non sono proprio piccolino quindi penso che ce la facciano praticamente tutti se ce la facevano con la tenda ci passano anche con questo con questo sistema ecco non sarà quello che vi impedirà di poter passare anche dall'interno per andare davanti senza dover scendere fare il giro e montare dalle portiere davanti ci si farà tranquillamente quindi detto questo io vi ricordo che se volete lasciarmi un bel like il video vi è piaciuto è stato interessante mi farà molto piacere ricordo i nuovi arrivati e che può essere passato di qui tramite questo video se si vuole iscrivere anche questo mi farà molto piacere la la community diventerà sempre più folta e fitta e vi aspetto nei commenti se avete qualcosa da chiedermi ancora in più sarò ben felice di rispondervi altrimenti alla prossima